In piazza Santi Apostoli a Roma decine di protagonisti del mondo della cultura, della politica, delle istituzioni, del femminismo hanno partecipato alla maratona oratoria organizzata dall'Associazione 7 Ottobre per ricordare la strage delle donne stuprate, seviziate e uccise da Mas in Israele. Sono molto impressionata del sentimento filo palestinese che si sta diffondendo nel mondo, che c'è sempre stato ma non in queste dimensioni, non con questa forza, non con questa quasi autorevolezza perché gli intellettuali e le migliori università americane... È stato spazzato via. Io sono stupefatta dal fatto che tutto quello che i miei genitori e i miei nonni mi hanno raccontato perché Matteo aveva a che fare con quello che loro avevano subito, si è riprodotto. L'Associazione 7 Ottobre nasce per difendere Israele e i valori delle democrazie liberali. È cambiato la vita sostanzialmente. Noi donne dobbiamo essere con le donne israeliane stupate e dobbiamo essere con loro, senza se e senza ma.